buongiorno e ben ritrovati venite anche oggi ad abbeverarvi alle fonti scusate ancora gli occhiali da divo hollywoodiano alle vongole ma fino a quando non avrò avuto ragione di questo piccolo fastidio agli occhi voglio evitarvi un ulteriore spettacolo sgradevole oggi abbiamo un ospite particolare sono molto contento onorato di ritrovarlo io sono figlio di un cosiddetto servitore dello stato mio padre è venuto a mancare l'anno scorso ed era un finanziere finanziere non nel senso di speculatore o investitore in borsa era apparteneva alla guardia di finanza e si faceva banto di un punto d'onore cioè lui diceva lo stato mi ha consegnato la divisa in tonsa e io in tonsa glielo restituita poi io so che ogni volta che si parla di servitori dello stato di divise di istituzioni di termini obsoleti come patria c'è sempre quello col ditino alzato no che arriva a dirti e ma ci sono anche i finanzieri gli appartenenti alla guardia di finanza corrotti e ma ci sono i poliziotti che alla scuola di as di genova durante il g8 nel 2001 hanno fatto una macelleria messicana e ma ci sono i carabinieri del caso cucchi tutto vero è sì ma io dico e quindi cioè quello che non si tiene mai conto quando si fanno questi ragionamenti molto all'ingrosso e alla carlona è che sempre quando ci sono casi definiamoli di mele marce e tra i finanzieri e tra i poliziotti e tra i carabinieri i primi ad essere incazzati chiedo scusa ad essere arrabbiati sono gli altri finanzieri gli altri poliziotti e gli altri carabinieri quelli onesti i quali ricevono la divisa in tonsa e in tonsa la restituiscono allo stato che gliela affidata per servire e proteggere la cittadinanza noi il popolo uno di questi signori è l'ospite di oggi che io continuerò a chiamare come sono stato abituato a conoscerlo fin dall'inizio per me lo era prima lo è adesso lo sarà sempre e cioè anche se nel frattempo adesso fa l'assessore all'ambiente per la regione calabria il capitano ultimo buongiorno capitano buongiorno a voi grazie di questa opportunità e di questo privilegio il privilegio è il nostro io continuo a dire capitano non mi interessano le gerarchie i gradi le promozioni la carriera capitano ultimo lei era e per me sarà sempre il capitano ultimo è grave no no sono sono ultimo e va bene così allora io ho chiamato il capitano ultimo gli ho chiesto di di essere in nostra compagnia oggi per parlare anche di quello che sta facendo adesso in calabria come assessore è stato chiamato a farne parte dalla scomparsa presidente della regione calabria iole santelli che è venuto a mancare anzitempo causa una grave malattia un tumore che l'ha portata via all'anno scorso ma quello che volevo dire per chi non ricordasse la biografia del capitano ultimo che se noi siamo riusciti ad assicurare alla giustizia quello che in quel momento era il nemico pubblico numero uno il capo dei capi di cosa nostra totò riina questo è grazie al merito del capitano ultimo e dei suoi uomini io ieri ho postato questa foto capitano perché era emblematica poi so che ci sono state anche delle polemiche stupide su questa foto no cioè sul fatto che riina sarebbe stato messo sotto la foto di una sua vittima il generale carlo alberto dalla chiesa qualcuno ha detto e ma era una forzatura polemica come se invece l'omicidio di dalla chiesa di falcone borsellino fossero stati diciamo dei dettagli marginali corretto sì una situazione incredibile un procuratore ha detto che era rimasto colpito dal fatto che praticamente avevano messo riina sotto l'immagine del generale dalla chiesa e secondo lui umiliandolo e quindi era rimasto colpito e noi siamo rimasti colpiti invece da queste sue sensazioni a cui ovviamente mandiamo il massimo disprezzo assolutamente massimo rispetto per tutte le opinioni ci mancherebbe anche per le opinioni di quei magistrati loro lo ricordo anche qui perché è un passaggio secondo me fondamentale di come il nostro paese sia sgangherato e uso volutamente un aggettivo soft perché dopo che il capitano ultimo con i suoi uomini hanno arrestato totori ina in un paese diciamo meno sgangherato e meno indecente del nostro fossero stati gli stati uniti pensiamola così il capitano ultimo sarebbe stato preso l'avrebbero portato alla casa bianca dal presidente degli stati uniti che gli avrebbe dato una medaglia avrebbero fatto la foto opportunity con la stretta di mano no quelle cose che siamo abituati a vedere nei film quando i poliziotti in america catturano i malviventi i cosiddetti appunto pericolo pubblico numero uno invece noi cosa abbiamo fatto il capitano ultimo cattura riina e poi lo mandiamo a processo non rina il capitano ultimo è perché perché a un certo punto avrebbe smesso di fare la guardia senza dirlo a nessuno al covo da cui era uscito quello stesso totorina che ultimo aveva catturato quindi non gli dicono bravo o meglio si gli dicono anche bravo è però hai smesso di fare la guardia al covo quindi ti processiamo per cosa per favoreggiamento di cosa nostra dopodiché al processo non succede niente cioè c'è la soluzione e la procura che lo aveva mandato a processo anziché impugnare la sentenza fa finta di niente e tutto passa in cavalleria ricostruzione capziosa o faziosa la mia capitano ultimo no assolutamente no è una situazione di declino il declino della lotta alla mafia il declino dell'antimafia dei combattenti quella che era stata costruita con tanta con tanto dolore con tanto sacrificio da falcone dalla dottoressa carla del ponte quell'antimafia seria fatta di di servizio e non di manipolazione o di potere e si è iniziato un meccanismo di disgregazione del fronte antimafia in cui le persone non hanno voluto assumersi le proprie responsabilità quindi la procura ha detto che non sapeva invece sapevano perfettamente tutto avevamo fatto delle scelte investigative condivise e queste scelte condivise poi sono state inspiegabilmente riviste dalla procura e quindi iniziato un contenzioso ridicolo che ha avuto solo un risultato delegittimare lo stato minimizzare il ruolo di cosa nostra nelle stragi e questo è una grave responsabilità è un danno che dobbiamo è una ferita che dobbiamo rimarginare e su questa felice e su questa ferita ricostruire l'unità del fronte antimafia nel rispetto di tutti e riconoscendo sarà la realtà rispetto alla manipolazione e alla propaganda delle fazioni io so che lei anche sulla cosiddetta non la voglio intrattenere su questo ma è una parte della sua biografia e sarebbe anche stupido non ritornarci sopra senza insistere però io so che anche sulla cosiddetta trattativa stato mafia lei ha maturato delle riflessioni che non sono quelle che troviamo nel mainstream dell'antimafia militante dei cosiddetti per usare il linguaggio di leonardo sciascia i professionisti dell'antimafia no cioè ci sarebbe stata questa trattativa tra lo stato e la mafia io poi dico sempre una strana trattativa perché poi alla fine i mafiosi bene o male tranne l'ultimo dei latitanti messina denaro bene o male li abbiamo presi tutti bene o male li abbiamo tutti messi in carcere bene o male e qui il mio essere cattolico mi fa chinare la testa per rispetto ci sono pure morti in carcere del resto se hai scelto di essere un criminale vieni condannato alla fine quello sai che potrebbe succedere ed è successo lei che alla fine no questo questa gran cassa mediatica su questa trattativa tra lo stato e la mafia in cui lo stato avrebbe calato le braghe o sarebbe sceso a patti alla fine adesso nel 2021 che che riflessione fa finale ma io ovviamente parlo al di fuori del processo perché non siamo nel processo e quindi ovviamente parliamo al di fuori del processo al di fuori del processo ci sono delle cose gravi il fatto che una trattativa tra due componenti contrapposte cioè cosa nostra rina e lo stato cioè dei funzionari dello stato questa trattativa che quindi deve aver prodotto un accordo avrebbe dovuto prevedere un accordo che poi evidentemente non è stato mantenuto e questo fatto non viene rivendicato dagli avvocati dei mafiosi perdenti in quanto detenuti e anche morti in carcere ma viene rivendicato dai pm e questa è una cosa incomprensibile per chiunque no è una cosa stranissima è inspiegabile quindi su queste premesse è chiaro che dal mio punto di vista diventa tutta un discorso che alla fine produce un unico risultato dell'egittimazione dello stato che invece ha combattuto e mini minimalizzazione del ruolo di cosa nostra e di riina nelle stragi di mafia questa è una cosa gravissima e però c'è e dobbiamo farci conti dobbiamo capirlo e evitare che le manipolazioni prendono il posto e prevalgano sulle prove oggettive traduco in maniera brutale grossolana lei mi corregga e dice il capitano ultimo se c'è stato un accordo ma poi i mafiosi sono finiti in carcere prima o poi evidentemente quell'accordo che non si capisce in che cosa in realtà no di cosa stiamo parlando cosa cos'è il dow d'essere se c'è un accordo se quelli sono finiti in carcere com'è che non sono gli avvocati dei mafiosi o mafiosi a dire guardate questo è il patto queste sono le clausole ci avete fregato adesso vi chiedo scusa e vi sputtaniamo tutti non sono gli avvocati non sono i mafiosi ma di questo si fanno carico i pm ho capito bene lei è questa singolarità che mette sotto i riflettori chiarissimo c'è nel momento in cui gli avvocati di riina di biondino avessero detto guardate c'è stato un accordo è chiaro che sarebbero tutti attenuanti per loro le avrebbero le avrebbero potute utilizzare per la loro linea difensiva e invece questo non è stato fatto ma lo stanno facendo dei pm quindi non lo so mi sembra una cosa surreale però è reale chiudo chiudo con una battuta che non vuole sembrare né minimizzante né riguardosa tutto questo poi spesso ruotato intorno alla figura di un signore che si chiama ciancimino junior figlio del grande ciancimino grande sindaco di palermo uomo della mafia ciancimino junior che ha sempre detto che c'erano le prove poi ciancimino uno era così come dire affidabile come testa che è finito processato lui per calugna per truffa per tutta una serie di imputazioni che ne hanno minato per chi ci credeva la credibilità cioè alla fine anche i pm che si rifacevano le dichiarazioni di questo signore sono finiti col ciancimino in mano cioè con niente punto a capo capitano lei adesso è assessore in calabria assessore all'ambiente in una regione in cui l'andrangheta è una delle più potenti organizzazioni criminali non soltanto in italia e in cui lo scempio ambientale i problemi ambientali per i rifiuti per il cemento sono all'ordine del giorno se non ho capito male leggendo alcuni documenti che fanno riferimento alla sua attuale attività lei avrebbe chiesto alla regione credo nella persona del commissario straordinario l'ultimo dopo la telenovela dei commissari straordinari alla sanità che sono saltati tutti al commissario straordinario del governo il raddoppio dei fondi che attualmente sarebbero 15 milioni lei ha detto ce ne servirebbero almeno 30 sempre se non ho capito male 30 milioni che poi alla fine sarebbe l'un per cento del budget di 3 miliardi che ruotano no anche qui ho capito male c'è un problema di fondi e com'è lavorare in calabria capitano ultimo lavorare in calabria è una cosa bellissima un onore immenso è un'esperienza che mi ha arricchito in maniera immeritata certo il problema della tutela dell'ambiente in calabria parte da una situazione di assenza della della capacità operativa nella struttura che è deputata a fare un monitoraggio preventivo e di misura sull'impatti ambientali presenti quindi l'arpa calabria che è l'agenzia deputata al monitoraggio ambientale ha un bilancio di 15 milioni di euro l'anno esattamente uguale al bilancio dell'arpa dell'umbria che ovviamente la calabria ha 800 chilometri di coste l'umbria è un'altra realtà e quindi salta tutto il meccanismo della prevenzione salta la possibilità di di andare sui territori di poter indirizzare i sindaci nella soluzione dei problemi nel rischio della depurazione negli scarichi fognari e abbiamo chiesto al commissario il il raddoppio di questo di questo bilancio e ancora non abbiamo avuto nessuna risposta lo chiederemo anche al ministro della sanità perché come sapete noi come regione non abbiamo siamo stati commissariati con una logica di dominio il dominio inspiegabile per cui dobbiamo chiedere quello che ci spetterebbe di diritto cioè una sicurezza ambientale praticata con un'azione sui territori speriamo che prima o poi qualcuno ci risponda e altrimenti dovremo gridare più forte insieme a tutti i sindaci della calabria e ai cittadini alle famiglie del del popolo calabrese che non merita il dominio e non merita l'abbandono a cui invece è sottoposto in maniera indegna io ho visto che lei è andato a esprimere solidarietà a cetraro perché c'è stato un caso di intimidazione locale questo per ricordarci che poi l'andrangheta è una realtà ancora presente anche in maniera capillare sul territorio calabrese poi in realtà l'andrangheta ha radici in italia e all'estero come ben sappiamo ricordo sempre la strage di duisburg in germania di quasi 14 anni fa in cui un comando dell'andrangheta è partito dalla calabria c'è stata una strage in un ristorante poi vagli a dare torto ai tedeschi quando dicono beh certo gli italiani beh certo i calabresi mi dispiace da figlio di calabrese a proposito di quello che vi dicevo all'inizio no poi si fa di tutto un erban fascio quindi calabresi onesti a causa dei calabresi indranghetisti hanno l'immagine tutti di delinquenti va bene punto è a capo a cetraro lei c'è andato proprio fisicamente cetraro è una località calabrese mi può dire in 30 secondi cosa è successo a cetraro a cetraro è stato hanno hanno colpito l'autovettura del comandante della stazione maresciallo orlando ambrosio è stata crivellata di colpi di arma da fuoco la sera di sabato e quindi siamo andato a esprimere la mia solidarietà a incoraggiare il comandante di stazione e tutti i carabinieri che operano in quella cittadina abbiamo chiesto avevo chiesto anche di poter parlare con il ministro della difesa lorenzo guerrini ho parlato con la sua segreteria ma evidentemente è troppo impegnato in ha impegnato in cose più importanti di questo e quindi ancora non ho avuto il privilegio di potermi confrontare con lui e abbiamo chiesto chiesto l'apertura di un tavolo tecnico per poter con il ministro della difesa con il ministro degli interni per poter capire qual è la strategia nel contrasto all'andrangheta in calabria quali sono le risorse destinate non mi faccio a diventare più cattivo e sarcastico di quello che sono perché sennò le dovrei dire che il ministro della difesa peraltro ottima persona è per carità poi qui non si non si giudicano mai le persone si vedono le persone nel loro ruolo pubblico perché i carabinieri dipendono dal ministero della difesa la polizia dal ministero dell'interno forse il ministro è occupato nelle vicende del rilancio del partito democratico quindi lei capisce che nelle priorità nel catalogo delle priorità arrivano prima altre cose scusi rimango un attimo in calabria so che non è materia sua però glielo devo chiedere ho visto il professor burioni in televisione che è un noto infettivologo mostrare la lettera della figlia di un medico di base calabrese che diceva l'organizzazione qui è un delirio per la vaccinazione contro il covid ci sono 130 mila ultra ottantenni da vaccinare ne abbiamo vaccinati solo 30 mila spesso le persone non si presentano alla vaccinazione quando vengono chiamate e a fine giornata i vaccini vengono buttati e vengono buttati perché essendoci un catalogo di priorità questa era la spiegazione il medico non fa saltare la fila a chi avrebbe diritto ma deve aspettare perché poi metti che succeda qualcosa c'è un documento dei medici di base dice noi finiamo pure indagati poi se ci scappa il morto dio non voglia indagati pure per omicidio colposo allora da lei voglio sapere due cose primo lei come personalmente vive la stagione del covid se si è vaccinato non si è vaccinato e a proposito di questa situazione non come assessore alla sanità non come commissario alla sanità ma come assessore della giunta se l'è giunto a qualcosa all'orecchio io vivo il covid non mi sono vaccinato perché ovviamente dobbiamo dare priorità alle persone fragili agli anziani penso sia un dovere di tutti e quindi non c'è bisogno neanche di parlarvi io vedo una cosa io non sono calabrese eppure devo difendere la calabria io la difendo in maniera con amore perché io vedo un modo di fare che è inaccettabile qui hanno commissariato la sanità quindi si è de responsabilizzato tutto tutto il settore e de responsabilizzando il settore non c'è più a mio parere una capacità non c'è più un'efficienza non c'è più la partecipazione a un'azione importante e quindi vedo il fallimento delle politiche centrali verticali dei dominatori che assumono dei poteri senza poi avere assetti organizzativi adeguati a svolgere il compito e portando nella disperazione e nella così nell'incapacità più totale una regione che merita rispetto un popolo che è il nostro popolo che portiamo nel cuore che ha sofferto tantissimo che deve essere aiutato dobbiamo chiedere cosa vi serve per fare una cosa e quello di cui hanno bisogno dobbiamo darglielo non imporre soluzioni da dall'impero ecco qui in calabria ho conosciuto l'impero romano che vive solo in calabria evidentemente perché poi i risultati sono il nulla non è un impero che l'impero che non fa nulla commissari hanno i comuni e poi lasciano questi commissari con un funzionario che lavora 18 ore la settimana e quindi quello viene al mese anzi non la settimana e me lo viene a dire mi chiedono aiuto a me che sarei la regione commissariata quindi è un paradosso una cosa indegna di un paese civile e credo che dobbiamo invece ripartire sull'autodeterminazione dei popoli dare strumenti di progettazione ai comuni alla regione e la sanità della regione deve essere portata avanti dalla regione che se ne deve assumere la responsabilità non è un potere è un servire il popolo ho capito bene 18 ore al mese quell'unico funzionario insieme al commissario al mese o alla settimana che comunque è sempre una cosa disastrosa perché in un comune 18 ore alla settimana e la domanda è di che cosa stiamo parlando che è inutile che facciamo dei grandi team manager a roma o a vuxelles quando nei territori il popolo le famiglie non hanno una capacità di progettazione adeguata ai tempi ecco questo va ristrutturato e noi dobbiamo denunciare questo e proporre invece di ripartire dai comuni dai municipi dalla prossimità perché questo è lo stato questa è la funzione amministrativa che dobbiamo costruire tutti insieme senza propaganda politica ho letto una bella intervista che è stata fatta in cui non avete parlato di questi temi ma avete parlato di religione di fede di spiritualità prima di chiederle di questo però mi consenta un flash sulla stretta attualità della cronaca a roma è stato chiesto l'ergastolo nel processo ai due ragazzi americani accusati di essere gli esecutori dell'omicidio di un carabiniere cercello rega di cui io e lei abbiamo parlato all'epoca dei fatti una vicenda comunque complicata per 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 quello che è successo per quello che è successo prima dell'omicidio e per quello che poi è successo pure dopo un po di confusione non alcune dinamiche tuttora a me non sono chiare ma siccome io non faccio il giudice non faccio l'avvocato mi limito a leggere quello che viene scritto posso formarmi un'opinione sicuramente fallace questa richiesta di ergastolo secondo lei chiude quella vicenda cioè abbiamo preso i due assassini hanno ammazzato un carabiniere vengono condannati problemi non ce ne sono altri problemi non ce ne sono io credo che i problemi rimangono aperti che devono essere affrontati nelle sedi ovviamente adeguate ma anche in maniera trasparente credo che i sindacati dei carabinieri hanno la possibilità di fare la propria parte di chiedere spiegazioni quelle spiegazioni che non vengono date e quelle dobbiamo trasportare dobbiamo creare trasparenza trasparenza non dobbiamo avere paura degli errori dobbiamo capire i fatti condividerli perché dagli errori se ci sono stati errori si possa poi evitarli nel futuro creare esperienza in maniera umile in maniera trasparente e questo deve essere la linea di tutte le amministrazioni e questo è trasformare una tragedia per quello che è possibile in qualcosa di positivo perché ci consente di evitarne altre nascondere tutto lasciare tutto chiuso in un piccolo tribunale tutto chiuso in una piccola grande sentenza serve sicuramente per 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 poter valutare un singolo fatto ma non per fare dottrina non per fare esperienza non per fare cultura della sicurezza dicevo del suo rapporto con la fede lei crede in dio capitano ma io con tanti dubbi credo sono seguo cerco di imitare quello che ci ha insegnato gesù credo nella povertà credo nel dono credo che il dono nel dono totale c'è gesù e ogni volta che vedo una mano che chiede e una mano che dà in quell'attimo a volte mi sembra di vedere gesù e quindi credo in lui credo nella povera gente credo nella chiesa povera dei poveri credo nella forza dei mendicanti e in questa fratellanza che è tutto quello che abbiamo lei ha detto con il covide siamo tutti in mezzo a una tempesta ma non siamo tutti sulla stessa barca si sanno dobbiamo combattere l'abbandono abbandono che colpisce alcuni più di altri chi è solo che è dimenticato chi dorme per strada no queste persone esistono e quindi dobbiamo impedire al covide di allargare ancora di più queste queste forme di abbandono queste forme di declino dell'umanità dei valori dell'umanità e quindi ci dobbiamo cercare dobbiamo costruirla questa fratellanza questa amicizia questa vicinanza per distruggere le frontiere e i fili spinati ho ricordato che lei è stato chiamato da iole santelli no che è venuta a mancare prematuramente tra l'altro poi con una coda polemica di dichiarazioni di un esponente politico del movimento cinque stelle che hanno detto beh ma i calabresi lo sapevano che era malata sei morta poi se lo potevano porre prima il problema se la sono votata da malata e adesso facciano i conti con il problema della un delirio poi a distanza di tre settimane tre settimane quell'esponente del movimento cinque stelle peraltro a capo della commissione antimafia se non ricordo male no morra a distanza di tre settimane si è scusato lei quando aveva letto quelle dichiarazioni cosa ha pensato capitano beh sono rimasto molto dispiaciuto molto amareggiato e anche ferito perché credo che iole santelli ha fatto la differenza nei pochi mesi che ha potuto condurre questa regione ha approcciato senza pregiudizi nel rispetto di tutti cercando di essere il presidente di tutti i calabresi ha avviato una visione della calabria bella pura in cui ha dato tutta la sua vita e queste persone che si donano dovrebbero essere onorate e non disprezzate non criticate in maniera così in maniera disumana e quindi sono rimasto dispiaciuto perché non è è contro è contro quel senso di appartenenza che dobbiamo avere tutti noi che facciamo parte della calabria siamo un insieme di comunità di 404 comunità e dobbiamo essere uniti per cercare il benessere delle famiglie dei cittadini dei figli dei ragazzi e non usare così la politica per per fare propaganda una fazione sull'altra questo tempo è vecchio è un tempo che deve finire vogliamo una politica nuova del mutuo soccorso dell'uguaglianza e della fratellanza e combatteremo per questo l'ultima domanda perché siamo in chiusura capitano ringraziandola come sempre eh intanto di aver accettato l'invito e poi per per le riflessioni che che ci fa e che ci regala eh lei ha sempre distinto anche all'imbello verbale no fra i carabinieri combattenti guerrieri e diciamo poi alcuni carabinieri che lei chiama se posso dirlo le giacche blu cioè quelli che sono un po' come in tutte le amministrazioni i burocrati no che stanno nei chiusi degli uffici e spesso non aiutano non incentivano non voglio farle polemica lei è andato in pensione punto la domanda finale è ha più dato il capitano ultimo all'arma dei carabinieri o è l'arma dei carabinieri che ha più dato al capitano ultimo all'arma dei carabinieri mi ha dato tutto io ho dato pochissimo rispetto a quello che ho ricevuto mi hanno insegnato a essere un uomo a essere un combattente a capire che prima di tutto esiste il bene comune esiste la sicurezza dei cittadini il benessere dei cittadini e poi le nostre le mie esigenze personali me lo hanno fatto capire con dolcezza con l'esempio e quindi io li sono grato mi porterò tutti tutti questi piccoli o grandi carabinieri che ho incontrato i loro sguardi e loro la loro sincerità la loro umiltà mi porterò nel cuore e e io sono niente rispetto a loro capitano grazie le auguro ovviamente buon lavoro come assessore all'ambiente della regione calabria grazie soprattutto per la sua storia per il suo di esempio per quello che ha fatto nella lotta alla criminalità che non sarà dimenticato e quindi questa conversazione se dio vuole a dio piacendo avremo occasione di rifarla anche in futuro magari con ancora più tempo a disposizione intanto davvero grazie e buon lavoro do la linea alla regia di milano salutando il capitano ultimo in calabria grazie a milano e noi poi ci vedremo domani con tutt'altro registro perché avremo come ospite un bravissimo comico ma è riduttivo definirlo comico e un imitatore ubaldo pantani buona giornata a tutti a domani